ecco qua il toyboy marx che strapazza una vecchia amalgacciona una vecchia amalgacciona rifattona una amalgacciona rifattona vedete questa amalgacciona si è rifatta le labbra si è rifatta tutta ecco difende si difende però dall'attacco di un toyboy difende ecco mette in fuga toyboy grande toyboy marx adesso torna della sua amalgacciona rifattona si è rifatta le labbra si è rifatta le tette si è rifatto tutto vedete questa amalgacciona completamente rifatta e vedete il toyboy com'è dolce com'è gentile eccolo qua il nostro toyboy molto gentile con la nostra amalgacciona la prende la prende vedete che è vecchia quindi deve trattarla deve trattarla bene toyboy eccolo qua la porta la porta vedete il toyboy con l'ammalgacciona rifattona l'ammalgacciona rifattona labbra tette tutto rifatto c'è questa amalgacciona tutto rifatto eccola qua la rifattona amalgacciona il toyboy se la strapazza vedete com'è adesso fa tutte le posizioni sta sta portando la sta portando non so dove la vuol portare comunque il toyboy